Torneremo presto a viaggiare. Torneremo presto a sentirci liberi. Torneremo presto alla nostra vita. Alcuni di noi dovranno reinventarsi. Altri dovranno ricostruire tutto. Ripartendo da zero. Proprio come dopo un uragano. Dopo uno tsunami. Ripartiremo. Ripartiremo, sì. Ma stavolta lo faremo dalle piccole cose. Con la consapevolezza che tutto può finire da un momento all'altro. Ma che solo noi possiamo decidere come affrontare gli eventi. Ripartiremo con entusiasmo. Come un bambino che scopre per la prima volta le cose. Cogliendone ogni sfumatura. Torneremo presto a viaggiare. E ci emozioneremo per un abbraccio. Apprezzeremo quelle cose che prima davamo per scontato. Ripartiremo per l'orosa at 새o. Ripartiremo. Ripartiremo per l'orosa buonницia. Ripartiremo dal, ripartiremo per l'orosa. Ripartiremo per l'orosa. Ripartiremo per l'orosa. ALIMzh intervalsvole. correspondendo da un uraporo planetario. Indipsizemo ecarrive. Come una cena tra amici, un concerto, un falò, un tramonto, un pranzo in famiglia. Daremo più importanza agli affetti e meno agli oggetti. E più a ciò che abbiamo, che a ciò che ci manca. Torneremo liberi e come la felice rinasce dalle proprie ceneri, noi rinasceremo dalle nostre sofferenze. Torneremo presto a viaggiare. Torneremo presto. Torneremo presto. Torneremo presto. Torneremo presto.